e io riprendo un attimino la linea con la giuria perché insomma dopo questa esibizione dai un parere in generale, velocissimo perché abbiamo poco tempo quindi riniziamo qui da Giulia Maggio, allora Giulia brevissima. Cerco di essere breve, è coincisa. Allora innanzitutto ringrazio il patron Maurizio Meli di avermi riconfermata per la dodicesima edizione e non solo, mi ha messa anche la presidenza, è stata una sorpresa, grazie per la stima, fiducia e rispetto che abbiamo. Ecco parliamo degli artisti, poi complimenti magari ce li facciamo dopo. Ho voluto ringraziarti, poi ringrazio anche il collega, bravissimo veramente, hai fatto un ritratto stupendo quindi siamo in tema Lucio Dalla e quindi io posso dirlo in qualità di artista. Ecco sei veramente bravissimo. Si riferiva a Francesco Garofalo a cui facciamo di nuovo un grande applauso. Ringrazio tutti i colleghi, la giuria che stiamo lavorando armoniosamente e siamo tutti in sinergia. Allora torno a ribadire, io faccio parte appunto del Festival di Sanremo in diverse, tu lo sai benissimo, in diverse location. Quindi sono stata anche con Vittorio Descalzi dei New Colts che era il direttore artistico di Villa Ormondo dei Selezioni Giovani. Ecco vi posso garantire, non sto dicendo bugie, che voi siete di alti livelli e cantate live quello di cui parlava lui. Ecco siete veramente bravi, quindi sono onorata di essere qua perché mi state insegnando tanta roba e poi appunto l'armonia che abbiamo tra di noi. Ora passo alla mia collega Elisa. Due aggettivi perché insomma è una malanga. No no perché ti stavo per dire spegnila perché se la lasciamo andare finiamo a fegato. Vabbè ripetiamo sempre le stesse cose che ripeto da quattro anni, per fortuna, sempre meglio, sempre qualità più alta, ragazzi eccezionali, atmosfera magica ma veramente. Basta qua, passo la parola, se da Maurizio mi rimproverà? Benissimo. Grazie, grazie Radio Free Station. Ragazzi vi ricordo che poi. Voi dovete, allora quando, io vi dico una cosa perché noi, allora Elisa fa sempre delle trasmissioni con, cioè ospitando appunto gli artisti di Premio Lucio Dalla e sono capitate delle puntate dove veramente, non faceva veramente a continuare dalle risate che ci facevamo. Abbiamo un paio di esempi qua. Perché saltano fuori, perché saltano fuori tanti di quei dettagli dei big stage che ci fanno morire veramente. Certo, ma poi loro sono sempre molto disponibili, simpaticissimi e affettuosissimi direi, grazie a tutti. Splendidi tutti quanti. Grazie Elisa, andiamo da Roberto. Come ogni anno ho trovato degli artisti stupendi, il clima è sempre quello di una grande famiglia e vale sia per gli artisti veterani che anche per i nuovi che riescono sempre ad integrarsi subito. Questo è semplicemente fantastico. Grazie Maurizio anche per quest'anno e passo la parola al collega. Grazie, grazie a te Roberto. Andiamo a Gianluca Magni. Allora io anni fa parlai con Michele Torpedine che chi fa musica sa chi è Michele Torpedine e mi disse Gianluca io sono alla ricerca più che di bella voce, di tecnica, di personaggi che esprimono verità. Stasera ho visto un paio veramente personaggi sul palco veramente interessanti che esprimono una grande energia perché oggi c'è bisogno di energia più che ma Torpedine e digli di venire ospite la prossima edizione qui a Prima e Lucio Dalla. Perché? Perché? Perché facciamo una produzione a chilometro zero. Io volevo ringraziare, mi sto veramente divertendo molto ed estasiata della bella musica, davvero. Maurizio, grazie, grazie dell'invito Maurizio. Tu conduci con una pacatezza veramente straordinaria e quindi ci dai calma, ci dai tranquillità. Grazie, grazie. Grazie, grazie anche a te. Se mi permetti di salutare il maestro che ha curato la musica di Caruso, il maestro Nicola Franco. Grazie, grazie anche a te, Sabrina Fardello. Andiamo dall'altra parte con Angela Scroo. Grazie. Allora, per me, anche per me, come hanno detto gli altri, la qualità è veramente alta. È bellissima l'energia che arriva. Arriva veramente tantissima energia, tantissima emozione. Si sente proprio il cuore, la personalità, ognuno in modo diverso, esprime veramente se stesso, esprime il messaggio che vuole trasmettere appunto nella canzone. Questo arriva, arriva molto bene ed è molto bello sentirlo da questa parte. Grazie Angela. Passiamo a Francesco Carofalo. In pochi secondi volevo racchiudere questa serata in una parola semplice che è gratitudine. Perché sono grato a tutti loro, perché sono veramente degli artisti formidabili e mi stanno regalando delle emozioni. Grazie, grazie Francesco Carofalo. Omar Yafisco. Per me il premio Lucio Dalle è diventato come una seconda famiglia. Sono felice di ritrovarmi anche sempre con persone che stimo molto, come Domenica. Quest'anno si è giunto anche Francesco che è un grande. E poi i ragazzi sono bravi, il look di Cioco è sempre originale, come sempre. Mi ha emozionato molto l'esibizione dei Cosmopoliti, che sono molto, molto bravi. Davvero grandi. Domenica Zamara. Bellissimo per me, stupendo anche stacco della musica lirica, meraviglioso. Qua c'è l'arte diversa, c'è musica rock, cosmopoliti mi hanno dato grande emozione, mi hanno aperto cuore come sempre grandi ragazzi. Poi amo la Sicilia. Bravissimi tanti, tante Lanimer di Rockettari. Amo molto rock. Allora sono felice di sentire buon rock, scritto bene, belle voci, molto interessanti. Grandi, grandi, perché ognuno di voi trasmette qualcosa di diverso. Grazie Maurizio per questa splendida premiazione, complimenti a tutti. Grazie, grazie anche a te per essere qua con noi. Amedeo Carrocci. Sì, velocissimo, ancora in preda alla commozione che credo abbia condiviso un po' con tutti per la splendida interpretazione di questa cover. È convinto che appunto lo spirito soffia e in questo caso è lo spirito di Lucio Dalla che ci tiene qui uniti, siamo fortunati a vivere una serata così bella con la sola ricompensa, credo, di una comunione spirituale. Grazie Maurizio, grazie artisti a voi e complimenti. Quindi questo premio Lucio Dalla, se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo. Allora, l'ho fatto io, mi sono preso proprio una bella responsabilità, lo so, ma la responsabilità è assolutamente, come dire, mi scappa la parola in questo momento ma ne valsa veramente la pena perché siete tutte delle persone meravigliose. Un applauso a voi. Grazie. Grazie. Grazie.